Cose che non sapete su Super Mario RPG per Super Nintendo Mario RPG ufficialmente non è mai uscito in Europa su Super Nintendo Ma allora questo cos'è? Una versione tarocca? Quasi! Controllate pure su Wikipedia La versione nostrana su cartuccia teoricamente non esiste Eppure è qui tra le mie mani Non si trovano informazioni precise in merito Però vi posso assicurare che, ai tempi, questo l'ho comprato in negozio Distribuito ufficialmente in Italia da Ci Diverte Era una versione modificata di quella americana Infatti, a quei tempi, non solo le cartucce statunitensi ed europee avevano una forma diversa Ma erano anche incompatibili tra i sistemi NTSC, Giappone e America E PAL, vale a dire lo standard europeo Esistevano dei convertitori Like al video se volete saperne di più in proposito Ma per vari motivi non funzionavano con tutti i giochi Tra cui proprio Mario RPG Nonostante questo fosse modificato Nel mio caso, non so se valesse per tutti Ma per farlo partire non bastava neanche inserire la cartuccia e accendere la console Dovevo infatti inserire la spina nella presa dopo averla tutta Senza senso